I guanti si può parlare Lì non c'è il recinto però Hai ragione Mettiti il cappello però Andiamo Troppo scivoloso Cosa ne pensa di questo viaggio in America A New York City Bellissimo ma la cosa che mi sta più contendo in questo secondo E quel cagnone è carissimo Comunque è molto bella Ovviamente ci riandrò Non voglio sperare di rivedere quel cagnone Ah ecco giusto Non è la pena proprio No comunque è molto bello Io consiglio di andarci Però Com'è che Se non lo sai te cosa devi dire Adesso devo giocare nell'anello Ovviamente non lì ma dove lì Alla prossima Buongiorno Ancora, i panio... Guarda... Guarda... Pappala ha no vieni? Vieni... Guarda... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.